Buonasera Eleonora Fanelli Sì, Emanuela Emanuela, Emanuela Fanelli No, siccome mi sono divertita molto ieri qui a fare questo giochino dei colori, delle battute Allora, così Siamo contenti, vero? Siamo, sono un po' Emanuela Fanelli, questa gioia di... Sono entrata in questo Grazie Fa piacere anche a noi che più sia divertita E così, entrata a far parte di questi condottieri della risata, come ci chiamiamo tra noi Volevo fare una battuta della... Volevo fare una battuta sulla signora in giallo Però in romanesco perché piace al pubblico Io ci provo Allora, volevo fare La signora in giallo La signora in giallo Fatta analisi, occhi al fegato Con la mano in giallo Questa è piaciuta Questa è piaciuta perché hai capito che quando uno ha problemi di fegato è giallo Diventa giallo, l'intero L'intero È l'intero Però a me, sinceramente, sembrare una borgatara su Rai2 con la mano così Magari parlo dopo No, ormai l'hai fatta, è andata così Però se si può togliere la mano solo Vabbè, poi vediamo Grazie Vabbè, poi chi c'è? Ah, Rapone Buonasera, Rapone Buonasera, Riccardo Sono Rapone Della televisione Mi avete visto Sulla Rai Io volevo fare una battuta Me l'ha scritta il mio autore Perché lui, non so se sapete Ha partecipato a una puntata della signora in giallo La puntata del furto di bestiame Pensate, lui faceva Faceva il ruolo del bestiame Ecco, quindi Se posso vado a prendere la La battuta Ah, è sempre Grazie È sempre lui Sempre lui Una battuta sulla signora in giallo Sì Scritta lui Qual è la serie in cui Angela Lensbury È un po' imbarazzata di stomaco E mangia solo riso e pasta scondita? È la signora in bianco È bravo, è bravo È bravo, è bravo È bravo Qua c'è Eh? Ragazzi, il doppio senso qua Va bene, va bene Allora governed in giallo 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 in gllo in